Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce dell'istituzione, è il piacere di avviare in studio Mauro De Carli che è il segretario generale del sindacato della CGL in provincia di Belluno e con il quale parleremo di svariati argomenti, naturalmente di quello che è successo con il Covid, però anticipiamo questo argomento con un altro che è importante anche perché diciamo che è emblematico per quello che è il mercato del lavoro in provincia di Belluno e della situazione della OneBound, naturalmente ringrazio per la presenza, che è un'azienda che occupa quasi 200 operai, non è una delle aziende più grandi della provincia di Belluno, per me ha assunto questo ruolo di esempio di cosa può succedere, mi pare, e quindi il grande interesse. Hai toccato, buonasera a tutti, hai toccato una delle domande che è stata fatta spesso durante questi mesi, ma perché in qualche maniera vi accanite nel voler fare di questa azienda un emblema? Ci sono diversi motivi, io parto dal motivo forse anche di cuore se vogliamo, Wanbao, ACC, ex Danussi, ex Electrolux eccetera eccetera, è stato il punto di partenza diciamo del post Vaionti insomma da questo punto di vista quindi anche dell'emblema industriale della provincia di Belluno, quindi da questo punto di vista c'è anche un fattore diciamo proprio di territoriale molto importante e forse se vogliamo anche effettivo, ecco. In verità dietro ci sono vari temi, altri temi importanti, uno dei temi importanti è la questione della quella che viene chiamata della filiera produttiva, degli assi strategici che ci sono dentro un territorio ma in questo caso dentro un territorio nazionale. Le scelte che sono state fatte nel passato sono state scelte di natura industriale che hanno fatto, come dire, scorporare le varie fasi di produzione dell'elettrodomestico in varie società e quando queste società poi per un vario motivo o per l'altro motivo si sono distaccate dalla casa madre o si sono dovute distaccare la casa madre, ecco subentrare la potenza economica se vogliamo del polo industriale cinese che ha fatto perdere di consistenza la capacità produttiva europea non solo nazionale su questo tipo di prodotto che è l'elettrodomestico che è comunque uno dei prodotti essenziali per la vita nostra, tutti abbiamo un frigo insomma. Allora pensare male si potrebbe dire che i cinesi hanno voluto entrare per demolire? Alla fine, come si diceva un po' di tempo fa tra me e te, si rischia di centrare l'opinione proprio così in questo modo qua. L'obiettivo a suo tempo nella precedente crisi era quella invece di costruire a livello europeo una filiera dell'elettrodomestico, quindi l'interlocutore Wang Bao che era stato trovato dal dottor Castro, attuale commissario e l'azione del sindacato fatto sì che fosse questo il commissario ad hoc anche per questo tipo di nuova crisi della Wang Bao, della CC. La verità è che si voleva far rientrare un grande interlocutore internazionale per sviluppare il prodotto europeo e il mercato europeo. Le cose non sono andate così, si può pensare male come tu sollecitavi, insomma come dicevi. Adesso abbiamo fatto una grande battaglia da questo punto di vista che è partita quando Wang Bao ha dichiarato che non voleva più mantenere lo stabilimento italiano e quella battaglia ci sta portando proprio in questi giorni a aver avuto finalmente la decisione del Ministero per il nuovo commissario che è quello che tutti noi solicitavamo perché ha le competenze internazionali e di settore assolutamente indispensabili per rinanziare lo stabilimento e cercare in questo modo appunto di fare nuovamente una filiera in Italia che abbia produttori italiani locali che possono effettivamente tenere un prodotto essenziale dentro una lavorazione, dentro un territorio, un territorio nazionale. L'ACC rientra nella grande chiusura, se ho interrotto, nel grande settore del freddo sostanzialmente, in modo particolare, che da noi è una tradizione importante, quindi diciamo che hanno anche già dei collegamenti interni al territorio molto vicini, la logistica è sempre importante. Sì, non c'è solo quel collegamento che per l'ACC non è proprio essenziale nel territorio bellunese. Il resto del settore del freddo bellunese è interessantissimo, forte e molto collocato a livello mondiale a altri segmenti di lavorazione. Il collegamento che intendo io è proprio il livello nazionale. L'ACC a Belluno fabbrica il compressore, il compressore va montato sul frigorifero che si fa a Susegana, senza ACC Susegana deve comprare il compressore da altre parti, dove in Europa ci sono due stabilimenti, uno fra l'altro viene da noi contestato da un punto di vista delle procedure internazionali che è in Austria, dove la vicenda ha voluto che fossero portati anche dei progetti italiani in un recente passato, una brutta vicenda che è in mano addirittura al Tribunale Pordenone e da questo punto di vista crediamo che sia necessario salvare Uambao ACC per tenere la filiera produttiva attiva, ma soprattutto perché se si rilancia Uambao ACC e questo è il mandato che viene dato al dottor Castro, vuol dire che può nuovamente ricrescere l'occupazione dentro lo stabilimento di Mell e questo è il nostro obiettivo. La risposta è scontata, siete ottimisti? Sì. Doverosamente? Sì, doverosamente ottimisti sul campo perché abbiamo lottato ferocemente, lo dico proprio così, nei mesi scorsi quando tutti davano per scontato che non c'era soluzione, sappiamo che dobbiamo farlo nei prossimi giorni, a partire dal tavolo territoriale che si è costituito ieri a Mell e che in qualche maniera anche gli altri interlocutori, il Ministero, le banche saranno essenziali per favorire la tenuta di liquidità dell'azienda che è ovviamente in questo momento stremata, ma c'è un lavoro a fare molto duro ancora, ma siamo ottimisti. I livelli occupazionali, Zanussi aveva occupato più di mille operai a suo tempo. 1900? 1900? No, è rimasto un po' più, è tantissimo. Adesso siamo a 200, è impensabile arrivare anche perché la dinamica industriale è molto cambiata, ma si può pensare anche a un aumento? Lo sta già mettendo in campo, è uno dei punti con cui c'è stata l'interlocuzione tra noi, il Ministero e anche il Commissario Castro, l'idea era già di poter aumentare i volumi recuperandoli da altri interlocutori che in questo momento sono in difficoltà, ma che servono e che devono essere prodotti assolutamente a mel, perché il giudizio che ne do io, devono essere prodotti a mel, per fare questo bisogna recuperare un pezzo di quelle maestranze, se non tutte, che la precedente gestione dei cinesi, Wang Bao, aveva addirittura spusso qualche mese fa, insomma un anno fa. Parliamo adesso del Covid, anche il sindacato si è trovato in difficoltà nella gestione di questo momento particolare, non solamente le aziende, l'organizzazione, la ripartenza, i rapporti industriali. È vasta come... Infatti, è enorme. Sì, è vasta. Se riteniamo opportuno mi concentrerai su due aspetti più o meno attuali, insomma. Uno, l'aspetto sanitario. In questi mesi la preoccupazione di tutti era rivolta in particolare al contenere il contagio, ovviamente, e nello stesso tempo a quello che succedeva nelle case di riposo. Lì era, dal punto di vista giornalistico, credo che voi abbiate dato uno spazio enorme, giustamente, alla preoccupazione che aveva tutta la cittadinanza, a tutti noi, a quello che succedeva dentro le case di riposo, che per necessità si dovevano chiudere a qualunque tipo di informazione, ma anche a qualunque tipo, ovviamente, di contatto. L'analisi che facciamo, e vado veramente in sintesi, è questa. C'è stato qualcosa che non ha funzionato. Quello qualcosa noi lo possiamo ricondurre al fatto che storicamente le case di riposo, prese singola casa di riposo per singola casa di riposo, non potevano prevedere o non erano in grado di contrastare individualmente la pandemia. Quindi l'analisi che facciamo è che adesso bisognerebbe, per un prossimo futuro, ricondurre una sorta di coordinamento, di gestione più condivisa nel territorio, dentro una situazione sanitaria, perché le case di riposo sono soprattutto alberghiere, si occupano di tenere i nostri anziani dentro condizioni ottimali, sicuramente, ma dal punto di vista alberghiere, dal punto di vista sanitario, non tutto si è fatto finora perché fossero veramente strutturate. Quindi riprendere questa discussione dentro un meccanismo più allargato. Noi lo facciamo in capo, lo indichiamo in capo alla stessa direzione sanitaria della USL e è per questo che stiamo insistendo per costituire proprio dentro la USL un tavolo specializzato nelle politiche degli anziani. Devono farvi parte la USL, le case di riposo, intendiamo anche soprattutto per esempio i sindaci, i sindaci sono poi i proprietari di gran parte delle strutture per anziani, non solo, penso sono ovviamente in mano anche alla chiesa e al clero. Non so se ho compreso bene, in questo momento si ha l'idea che sia una parte distaccata del mondo dell'assistenza, mentre voi vorreste questo che intende dire. Sì, ovviamente non è proprio precisamente come volendo essere sintetici al massimo hai detto bene. Sappiamo che non è così, ma sappiamo che dentro proprio questa distanza c'è stata credo la falla che ha comportato una serie di difficoltà enormi, purtroppo anche dei decessi, insomma molti, dentro le case di riposo. Va ricondotto per un futuro a un qualcosa di più coordinato che noi riteniamo essere dentro il sistema territoriale della sanità. Il sindacato si è trovato di fronte ad una difficile scelta, da una parte a far ripartire chiaramente le industrie e la produzione, dall'altra a garantire la sicurezza. Molto spesso anche con toni, non dico censurabili, ma comunque sicuramente criticabili, da parte mi pare proprio anche di un vostro rappresentante, si è arrivati ad uno scontro con affermazioni sulle quali non mi soffermo. Ma alla fine avete trovato però la quadra, anche perché c'è la responsabilità degli industriali. Sono un po' difesa. Sì, infatti la domanda mi è sembrata anche un po' polemica, nel senso, nei miei confronti, io sono quelli che crede all'opposto, che una certa sorta di critica eccessiva sia venuta da parte di altri. Quindi, però giustamente adesso bisogna guardare avanti, non fermarsi a quando si è dibattuto in maniera magari un po' eccessivamente vivace. I temi sono anche qua due in particolari, uno la sicurezza, è il tema principale, su questo ci siamo sempre battuti durante il momento clou della difficoltà, è un tema a tenere presente da qua in avanti in maniera costante. Il tema della sicurezza è contenuto dentro i protocolli fatti al governo, ma è anche il tema su cui ci dobbiamo confrontare con il mondo imprenditoriale, non solo con gli industriali, anche con altri settori che ovviamente in questo momento sono forse ancora più in difficoltà. cito ovviamente il settore del turismo, perché lì il problema essenziale del distanziamento sociale, cioè di non poter venire a contatto con altre persone, di mantenere almeno il famoso metro di distanza, le mascherine, magari voglio dire in una camera d'albergo, nella gestione di un ristorante, di un bar, è più complicato che in un'industria. e quindi è un settore che dovrebbe in prossimi periodi sicuramente tenere ancora più in considerazione la questione della sicurezza. E questo è il tema principale. La sicurezza come elemento principale per la ripresa, la ripartenza e anche per il futuro dei comparti produttivi. Il secondo tema è che cambiamenti ci saranno nei comparti produttivi proprio a fronte della gestione della sicurezza e anche a fronte delle dinamiche che sono emersi in questi tempi qua. È un tema su cui stiamo ovviamente cercando di discutere. Con CISL in particolare, insomma, abbiamo detto che sarebbe utile tornare anche in provincia di Belluno a delle forme di discussioni che ci portino a una sorta di patto territoriale su alcuni temi, non credo in senso generale, ma su alcuni temi dobbiamo veramente metterci a tavolino a discutere e capire le singole posizioni per chiudere su una quadra. Cito la questione dei trasporti, essenziale. Oggi Belluno ha una difficoltà nella ripresa delle linee, in particolare dell'azienda locale, insomma, dopo i mitibus per quanto riguarda il trasporto generale che interessa il territorio, ci sono alcuni paesini che sono sprovvisti del servizio, ci sono orari molto laschi tra una linea e l'altra, insomma, non vengono più serviti in maniera adeguata i luoghi di lavoro, quindi effettivamente alcune difficoltà vengono anche da qui. Il tavolo delle competenze, il Covid ha dimostrato che servirebbe, come dire, cambiare una serie di linee guida per il lavoro, come si lavora in fabbrica, quali tipo di nuove mansioni possono nascere dalle esigenze di lavorare in maniera diversa come appunto la sicurezza imporrebbe, quindi da quello bisognerà che, come dire, ci parliamo per capire chi indirizzi formativi e che indirizzi, diciamo, anche contrattuali mettere in campo per far riprendere con serenità tanti luoghi di lavoro. Cito un dato che forse non è chiaro. Il 74% delle aziende bellunese e venete hanno chiuso durante il periodo di lockdown e hanno toccato quasi il 50% dell'occupazione bellunese. Quindi oggi non siamo alla ripresa di questi numeri, siamo alla ripresa parziale di questi numeri. C'è ancora tanta cassa integrazione per poter reggere la difficoltà di ripresa, che non dipende dalla sicurezza, dipende dai mercati che nel frattempo si sono chiusi in giro per il mondo. Gli ordini sono scarsi. Si è passati da una visibilità di 60 giorni lavorativi all'attuale visibilità dove le cose vanno bene a 40 giorni lavorativi. Non c'è quindi programmazione, possibilità di capire come riprendere in maniera efficiente. Quindi approvogionamento di materie prime, organizzazione del lavoro e tutto quello che ci va. Mi pare di capire che questo tavolo di discussione serva per un eventuale ritorno ed essere preparati in modo particolare per evitare una chiusura, poter dare una risposta immediata. È così. E anche qua, non so se è una questione complessità nella risposta, una serie di aziende purtroppo non riprenderanno. Anche qua, dati statistici, osservatorio di Camera del Commercio, in particolare nella piccola impresa, sicuramente qualche vuoto si procurerà. È un peccato, ovviamente. Ma l'altro aspetto è come, quali sono le previsioni, per esempio, di una ripresa. La stima che si dà oggi è che per fine anno il PIL italiano, come gran parte del PIL, forse è quello cinese, sarà un PIL in perdita, un prodotto interno lordo che perderà. e si stima tra il 3 e il 5% il prodotto interno lordo mondiale che verrà perso, in Italia un po' di più, si stima intorno al 5%, ma si presume che la ripresa del 2021 possa rialzare del 4,7% il prodotto interno lordo mondiale. Quindi, il 2020 dovrebbe anche servire, certo che dobbiamo limitare i danni, certo che dobbiamo lavorare velocemente, soprattutto per far funzionare al meglio nei prossimi periodi il sistema produttivo. Sì, perché quello che viene rischia di essere davvero un autunno caldo, questa volta non per contestazioni sindacali o ad altro, ma perché mancherà il lavoro. Molto velocemente siete soddisfatti della gestione della cassa in deroga? Molto velocemente? Allora, soddisfatti ovviamente no. Diciamo che rispetto a qualche anno indietro le cose sono anche migliorate, perché nessuno ci ricorda le cose vecchie. Cito, la cassa in deroga è nata nel 2008, ci voleva un anno per pagarla. Ora, in qualche maniera, il mese di marzo sicuramente è arrivato quasi a tutti, perché qualche errore sicuramente c'è. Aprile dovrebbe essere velocemente retribuito, ci sono delle nicchie di difficoltà che attengono a particolari aziende che si chiamano multilocalizzate, quindi non sono solamente sul territorio, sono su quello nazionale e lì si è complicata la vicenda. Siamo soddisfatti del meccanismo finale messo in campo, che mi sembra quello A, che preveda comunque il dialogo tra azienda e sindacato, B, che prevede una modalità snella, sburocratizzata di pagamento. Questo sì. Il primo pezzo non è andato velocemente. Lo abbiamo però recuperato. L'Inps lo ha però recuperato. è che si sono svertite di molto tutte le azioni, le pratiche per poterle erogare. È stato molto più semplice, sì. Chiodoscura, se non posso dare spazio ad altri approfondimenti, siamo stati con Mauro De Carli, segretario generale della CGL di Belluno. Grazie anche per la comprensione nel mio porre le domande che a volte possono sembrare polemiche, ma lo sono, spero, delicatamente polemiche. Grazie a Mauro De Carli, buon lavoro naturalmente e grazie a voi per averci seguito. Buona serata. Buona serata, grazie a lei. Grazie a tutti.